Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. I fatti narrati durante questa ricostruzione hanno luogo a Kilgore, una città della contea di Gregg, in Texas. La presenza della più prestigiosa squadra di cheerleading del paese fa sì che l'intera cultura del posto sia profondamente legata a questa attività. Le Range Rats, o semplicemente Rats, sono un modello di ispirazione, atletiche, devote alla disciplina, determinate. Dal 1940 rappresentano il fiore all'occhiello dell'intero Texas. Sono infatti coinvolte in diverse manifestazioni di importanza nazionale. Quasi tutte le ragazze di Kilgore sognano di entrare a far parte della squadra. La selezione prevede un faticoso provino nel quale vengono messe a dura prova le capacità tecniche e la tempra delle candidate. È il 2 gennaio 2017. Allo stadio AT&T di Arlington, il corpo delle Rats, unito al completo, si prepara per un'esibizione durante l'intervallo della partita del Cotton Bowl. La direttrice della squadra, Dana Blair, osserva attentamente dal bordocampo. Onora quella carica dal 1993. Prima di allora era stata una Range Rats. Conosce le emozioni, la durezza degli allenamenti, il sacrificio che comporta rappresentare un'istituzione così prestigiosa. L'uniforme e le acconciature simili rendono le compagnie di squadra confondibili tra loro. Eppure la donna non ha esitazioni quando le guarda. Conosce le ragazze una per una. Tra loro c'è anche la figlia di Dana, Alexa Blair. Per la 19enne si tratta della prima performance sul campo. La ragazza non ha mai subito pressioni familiari che la spingessero a ripercorrere il cammino intrapreso dalla madre. Fin da subito aveva però manifestato una grande passione per il mondo del ballo e dell'atletica, decidendo di convertire il suo sogno in realtà. Attraverso un percorso scandito dalla fatica e dal sacrificio si era conquistata il suo meritato posto nel drill team per eccellenza. Il giorno del suo esordio per Alexa significa moltissimo. L'evento, estremamente prestigioso, viene trasmesso in diretta, in televisione. Proprio come le sue compagne, Alexa avverte forte in lei il senso di responsabilità. Inoltre vuole dimostrare alla madre di essersi meritata questo ruolo. Dana osserva attentamente i movimenti della figlia, valutandoli sotto il profilo tecnico. La postura elegante e il portamento è equilibrato e leggiadro. In quel momento Dana può finalmente mettere da parte il suo ruolo di istruttrice e concedersi di provare una grande amorevolezza verso Alexa. È orgogliosa di essere sua madre. Ma l'emozione del momento non può cancellare del tutto alcune recenti preoccupazioni. Se vi foste avvicinati ad Alexa sul campo avreste infatti potuto notare i segni di alcune abrasioni sul suo collo e i capilari dilatati dei bulbi oculari. In questo frangente pochissime persone presenti sugli spalti sono a conoscenza della situazione drammatica in cui la ragazza e sua madre si sono ritrovate soltanto alcuni giorni prima. Ma per il momento lasciamo da parte la famiglia Blair e soffermiamoci su un'altra persona, Nancy Motts. Facciamo quindi un balzo indietro nel tempo. È il 2015. Nancy è una comune casalinga di Kilgore. Il marito Kyle gestisce un'azienda che opera nel ramo dell'edilizia. I due hanno un'unica figlia di nome Kylie. Sono estremamente protettivi nei suoi confronti. Infatti in diverse occasioni si sono dimostrati dei veri e propri helicopter parents. Per helicopter parent si intende quel tipo di genitore che tende a dare ragione, proteggere e a giustificare i propri figli a oltranza, arrivando nei casi più estremi a prenderne le disfese, persino quando hanno palesemente torto. La vita della famiglia Motts potrebbe definirsi invidiabile. Abitano in una casa bellissima, hanno una solida stabilità economica. La figlia è una studentessa modello e i coniugi vivono un matrimonio felice. Quando il marito è a lavoro, Nancy ha la possibilità di dedicare molto tempo a Kylie, sua figlia, e al proprio hobby preferito, il restauro di oggetti di seconda mano. Inoltre frequenta spesso una chiesa dove svolge il volontariato. La famiglia Motts è estremamente riservata, sono infatti poche le persone che la conoscono intimamente. Tutto sembra perfetto, ma come spesso accade, gli eventi prendono pieghe inaspettate. Quando Kylie frequenta l'ultimo anno di liceo, la famiglia risiede ormai a Kilgore da almeno un decennio. La ragazza sostiene, come di consueto, i provini per entrare nel corpo di precision dancing della scuola, le high steppers. Negli anni precedenti aveva sempre fatto parte della squadra, guadagnandosi affetto e rispetto da parte delle sue compagne. Kylie è una ragazza tranquilla, seria, si è sempre meritata i riconoscimenti ottenuti. In questa occasione, tuttavia, di fronte a una competizione molto più serrata, Kylie non supera le selezioni. Altre candidate hanno ottenuto punteggi più alti, e sono loro a passarle. Quando la notizia raggiunge l'istruttrice Colleen Clower, questa si mostra fin da subito amareggiata. Insomma, vuole cercare una soluzione a tutti i costi, conosce Kylie, sa quanto è emotiva e che tiene molto alla squadra. Il giorno stesso in cui vengono pubblicati i risultati, Colleen scrive un messaggio alla ragazza, proponendole di entrare a far parte dello staff organizzativo delle high steppers. Il messaggio non riceve alcuna risposta, piuttosto la famiglia Mott si muove attraverso vie ben diverse. Nancy solleva infatti una polemica sostenendo che la figlia sia stata boicottata a causa della sua altezza. Vengono scagliate da lei e dal marito accuse di collusione nei riguardi di Colleen. L'istruttrice si trova costretta, suo malgrado, a risponderne. La questione viene portata all'attenzione del consiglio scolastico del liceo. Durante una riunione, gli altri genitori ascoltano il racconto di Nancy e si lasciano convincere dell'invettiva della donna. Dunque si procede con una votazione che si conclude con la richiesta del reintegro in squadra della giovane Kylie. Colleen Clower si vede costretta a rassegnare le dimissioni al termine dell'anno. La sua autorevolezza, distruttrice, è stata completamente smantellata. Risulta beffardo che in vista delle audizioni, proprio per evitare selezioni basate sulle simpatie, Colleen avesse assunto specifici giurati preposti a garantire la massima imparzialità. Dal momento in cui non è sua intenzione assecondare alcun tipo di favoritismo, la donna ribatte che il reintegro della sola Kylie non è giusto nei confronti delle altre provinanti escluse. La sua decisione è quindi quella di offrire un posto in squadra a qualsiasi allieva abbia partecipato alle audizioni durante l'intero anno. Tutti coloro che avevano provato a entrare nelle High Steppers quell'anno si ritrovano così a entrare effettivamente in squadra. A questa scelta fanno seguito interazioni ed episodi a dir poco imbarazzanti. Nancy dichiara come ostracizzante e insostenibile il comportamento che le compagne di squadra assumono nei confronti di Kylie al momento del suo rientro. Non importa che si tratti di estranei o delle amiche di infanzia, per loro la presenza della ragazza ha destabilizzato l'equilibrio di una prestigiosa istituzione. Sebbene dichiari che le sue intenzioni mirassero al benessere di Kylie, adesso a Nancy non resta alcuna soluzione se non quella di trasferire la figlia in un'altra scuola. La ragazza inizia così a frequentare la Pine Tree High School. Lì trascorre il resto dell'anno prima del suo passaggio al college, senza partecipare ad alcuna attività legata al cheerleading. Con il trascorrere dei mesi, sempre meno persone parlano della storia della famiglia Motz, complice il cambio di dirigenza nelle High Steppers e il trasferimento di Kylie al college. Sembra che la vicenda sia stata dimenticata e che tutti siano tornati alle questioni prioritarie delle proprie vite, ma il crimine è in agguato. È il 29 dicembre del 2016, quando Nancy Motz esce di casa. Per lei la giornata inizia in maniera ordinaria, lascia l'abitazione e guida fino a Longview per acquistare un paio di jeans. Dopo essersi fermata in un locale per usare la toilette, torna in strada e cammina verso la macchina. In quel momento intravede Patrick Shore. Ebbene, Patrick è stato fidanzato con Kylie e i due hanno da poco interrotto la loro relazione. È a questo punto che in Nancy, una donna incensurata, scatta qualcosa di terribilmente inaspettato. La donna sospetta che il ragazzo si stia frequentando con una giovane rangerette del posto di nome Brianna Duffield. Pensa quindi che confermare questo suo sospetto possa essere di conforto a sua figlia, che la sproni ad andare avanti. Ecco, dunque il suo piano. Pedinerà il ragazzo fino a quando lui non si incontrerà con Brianna. A questo punto scatterà loro una foto per poi mostrarla a Kylie. In questo modo proverà che Patrick sia ripreso in fretta dalla loro rottura e che dunque non era un ragazzo affidabile. Tuttavia i suoi sentori si riveleranno completamente sbagliati. Non solo Patrick e Brianna non si stavano frequentando in quel momento, ma, a detta della ragazza, non c'era mai stata alcuna relazione. In ogni caso, per non farsi riconoscere, Nancy porta con sé un accessorio da travestimento, ossia una parrucca di capelli castani e corti. In realtà, Nancy si procura anche degli oggetti più minacciosi del nastro isolante e una pistola, anche se, a quanto sembra, li teneva sempre in macchina. Nasconde i suoi capelli biondi all'interno della parrucca e li ricopre con un cappello. Dopodiché inizia a petinare Patrick Shore. Per ragioni tuttora poco chiare, a un certo punto Nancy smette di seguire il ragazzo e si mette direttamente alla ricerca di Brianna. Le viene in mente di controllare il profilo Facebook della ragazza, così si accorge dell'amicizia con un'altra compagna di squadra, Alexa Blair. Le due ragazze hanno diverse foto insieme, quindi tra loro deve esserci un bel legame. Nancy non la conosce, ma sa che la madre di Alexa si chiama Dana Blair. Dana e i genitori di Patrick sono amici. Durante una chiacchierata, Dana li aveva messi in guardia proprio dai comportamenti inappropriati di Nancy. Attraverso lo stesso Patrick, Kaylee era venuta a conoscenza dell'episodio e ne aveva parlato con la madre. Nancy era quindi venuta a scoprire che questa donna, Dana Blair, aveva sparlato di lei. Si convince che la colpa della rottura tra i due ragazzi risieda proprio nei discorsi di Dana e prova risentimento nei suoi confronti. Nancy sa che la famiglia Blair vive a pochi isolati dal luogo in cui si trova lei, quando smette di seguire Patrick. Visto che anche Alexa fa parte delle Range Rats, ci sono buone probabilità che sappia dove abita Brianna. Contando di ottenere ulteriori informazioni sulla ragazza, Nancy prende la decisione di andare a casa dei Blair. Guida fino a una casa di riposo nelle vicinanze e parcheggia l'automobile. Recupera il nastro isolante e la pistola. Infine, dal bagagliaio della vettura, prende una grossa cartolina natalizia. In quel momento Dana è impegnata in alcuni preparativi. Quattro giorni dopo, infatti, parteciperà alla partita di Cotton Bowl assieme ad Alexa per una performance delle Rats. L'atmosfera in casa è frenetica, mentre Alexa sta guardando una serie tv su Netflix, in camera sua, la madre prepara le valigie e l'attrezzatura necessaria per raggiungere Erlington. Verso le sei del pomeriggio, Dana sente suonare il campanello di casa. Istintivamente pensa che si tratta di Chris, suo marito. Infatti l'uomo era uscito poco prima per svolgere delle commissioni e non aveva portato con sé le chiavi di casa. Era presumibile che fosse ritornato e avesse suonato, magari proprio per recuperare le chiavi. Tuttavia, aprendo la porta, Dana si trova davanti una donna dei capelli corti, color castano. In mano tiene una grossa cartolina di Natale, quasi a coprirle parte del viso. La donna le chiede con gentilezza di poter parlare con Alexa e Dana. Non nutre sospetti nella persona che ha davanti. In fondo, pare conosca sua figlia. Dana va a chiamare la ragazza, ma quando questa sopraggiunge e si trova davanti alla donna, intuisce immediatamente dal suo sguardo che non si conoscono. È a questo punto che Nancy estrae la pistola, si fa consegnare i telefoni, poi ordina ad Alexa di immobilizzare la madre con il nastro isolante e, una volta che ha finito, si occupa lei stessa della ragazza, legandola accanto a Dana. Dana è una persona incline all'ansia e in questa situazione non riesce a reagire nonostante avverta la disperazione nella figlia accanto a sé. Allo stesso modo, Alexa è paralizzata dai suoi pensieri. Sebbene suo padre le abbia sempre raccomandato di utilizzare la porta sul retro in caso di pericolo, la ragazza si trova sotto il tiro di un'arma da fuoco. Le possibilità di guadagnare la via di fuga in colume sono troppo scarse per rischiare. Inoltre non conosce le intenzioni della donna che ha davanti a sé. E se sparasse senza esitazione, se minacciasse sua madre, non può proprio correre questo rischio. Nancy intanto si mette a controllare la rubrica telefonica dell'adolescente alla ricerca del contatto di Brianna e del suo indirizzo. Non trovandolo, costringe Alexa a salire in macchina con lei, presumibilmente per farsi condurre verso l'abitazione della famiglia Duffield, in cui abita Brianna. Alexa esita, chiede di poter recuperare delle scarpe in camera poiché è scalza e le viene permesso di andarle a prendere. Approfittando della distrazione del momento, Donna riesce a liberarsi dal nastro e a sgattagliolare fuori casa. La figlia infatti le aveva stretto poco attorno ai suoi polsi, permettendone di scappare. Non appena varca la porta di casa, Donna corre verso l'abitazione dei vicini, urlando per attirare l'attenzione. Constatata la fuga della donna, Nancy decide di portare Alexa con sé e la carica nella sua vettura. In base alle sue dichiarazioni, il rapimento non era stato contemplato con convinzione fino a quel momento. Nancy si accorge subito di essere seguita. A rincorrerla è Lori Wilcox, una vicina di casa dei Blair, che aveva sentito la richiesta di aiuto pochi istanti prima. La donna tuttavia viene seminata a seguito di un passaggio a un incrocio trafficato con il semaforo rosso. È in questo momento surreale che Kylie decide di telefonare alla moglie per sapere dove si è finita. Questa telefonata riporta bruscamente Nancy alla realtà. Scossa dall'adrenalina, stimolata durante l'inseguimento, si era persino dimenticata che Alexa fosse in macchina. Si dirige verso un complesso di magazzini in cui possiede un lotto di proprietà. Durante il tragitto, l'ansia e la paura di essere scoperta aumentano. Inizia a parlare più velocemente e gronda di sudore. Questa agitazione fa sì che decida di sbarazzarsi di tutti i telefoni cellulari e della parrucca. Nel frattempo inizia a interrogare, anzi a imbeccare la vittima del suo rapimento. Le chiede se si sente perfetta nel suo essere una Range Rats. Le domanda se il suo temperamento calmo sia dovuto proprio all'addestramento della squadra. Non mancano i riferimenti alle domande a proposito della sua amicizia con Brianna Duffield. L'atteggiamento di Nancy è intimidatorio, strafottente. Una volta arrivata al magazzino, la donna dice ad Alexa che non potrà lasciarla andare dal momento che l'ha vista in volto. Sempre rinvolgendosi a lei, aggiunge, non hai fatto niente di male, so che non lo meriti. A questo punto si inginocchia sul suo petto e inizia a strangolare la giovane fino a portarla allo svenimento. Al suo risveglio, Alexa prova a fingersi morta. Tuttavia la strategia si rivela inefficace, in quanto Nancy la smaschera subito. Sembra però che la consapevolezza di essersi spinta fino a un passo dall'omicidio abbia placato la frenesia di Nancy, la quale decide di lasciare la ragazza imbavagliata nel magazzino e di tornare a casa per cenare. Quando ho letto questa cosa sono rimasta senza parole. Allora, rapisci una ragazza, la porti in un magazzino, la strangoli fino a farla svenire, poi guardi l'orologio e dici cacchio è tardi, devo tornare a casa e cenare. La molli lì e torni a casa. Io davvero non capisco... Perché? Perché? Comunque, andiamo avanti. Dunque, sceglie di far finta di niente, Nancy, di fingere che nulla di tutto ciò sia successo. Non appena rimane sola, Alexa si adopera per liberarsi, supportata dall'adrenalina del momento e della forma fisica conseguita grazie agli allenamenti delle Rangerettes. Riesce così a spezzare il nastro isolante che la teneva bloccata. Si precipita fuori dall'edificio e scavalca alcune recinzioni per poi dirigersi verso la prima abitazione nelle vicinanze. Chiede e ottiene aiuto. Inoltre, quasi tutti nella città di Kilgore conoscono lei e la madre proprio grazie alla notarietà delle Rets. Vengono chiamate le forze dell'ordine e la giovane può finalmente riabbracciare i genitori. Nel frattempo, una pattuglia raggiunge l'abitazione di Nancy Motz, che viene interrogata sul luscio della porta di casa. Le sue risposte sono brevi, scortesi e indignate. Si dichiara stupita che la sua targa abbia ricevuto una segnalazione. Sostiene di non conoscere né Dana né Alexa Blair. Aggiunge inoltre che le sembra ridicolo essere accusata di un rapimento che non avrebbe avuto alcun motivo di compiere. Nonostante venga messa in custodia cautelare, continua a giurare di non aver mai indossato una parrucca. In tanti è ormai giunto il momento dell'esibizione delle Rangereds al Cotton Bowl. Dopo un'esperienza così traumatica, Dana chiede alla figlia se si sente in grado di esibirsi. Alexa risponde che tutti i sacrifici fatti avevano lo scopo di condurla in quel luogo e a quel momento. Dunque non vi avrebbe rinunciato per niente al mondo. Le due finiscono di preparare i loro bagagli. Il giorno seguente si dirigono ad Arlington. Una volta tornata alla vita di tutti i giorni, Alexa cerca di parlare della vicenda il meno possibile. Ciò non limita i giornalisti locali nell'indagare sulla storia e pubblicare articoli introdotti, spesso da titoli che fanno riferimento alla violenza fisica subita dalla ragazza. Oltre alla pesantezza del vissuto di quella notte, Alexa deve fare i conti anche con l'eventualità di riviverlo ogni volta che se ne parla o che legge qualcosa riguardo. Con il passare delle settimane, l'attenzione da parte dei media inizia via via a calare. Nancy continua a dichiararsi innocente nel corso dei due anni seguenti, fino all'aprile del 2019. In questo periodo inizia il processo nei suoi confronti e, a seguito dell'enorbità delle prove schiaccianti, la donna si dichiara colpevole di rapimento. Infine, viene condannata a cinque anni di prigione. Durante la sua deposizione, si esprime apertamente contro le dichiarazioni di alcuni suoi vicini di casa, riportate sui loro social network, e ne elenca i nomi. Alcuni di loro, infatti, hanno commentato la vicenda scrivendo «Stiamo allenando la nostra mira nel caso qualcuno nutra ancora del risentimento». È proprio durante questa udienza che Alexa ha finalmente la possibilità di guardare attentamente il viso di Nancy. Quella donna ha segnato un momento cruciale della sua vita, eppure ne conosce a stento i lineamenti. In questo momento, libera da qualsiasi paura, la ragazza osserva il volto della sua rapitrice. Si sente arrabbiata, ferita, dalle sue continue dichiarazioni false rilasciate nel corso degli anni. Non può perdonare una che l'ha sequestrata e continua a sostenere di non averla mai strangolata, una che afferma imperterrita di non averle mai puntato contro un'arma da fuoco. La sentenza stabilisce a favore della famiglia Blair un risarcimento pari a 575.000 dollari. Nancy Motts viene rilasciata per buona condotta nel novembre del 2021. Dovrà restare nell'area di Longview-Marshall fino ad aprile 2024. Questa decisione ha lasciato basita l'opinione pubblica. Molti degli abitanti di Kilgore si aspettavano una condanna più significativa. Il fatto che non sia stato possibile dimostrare la volontà di Nancy di uccidere l'adolescente in ostaggio ha giocato un ruolo importante. Nancy non sembra manifestare particolari segni di rimorso per quanto commesso. Sebbene si sia dichiarata colpevole di aver rapito e minacciato Alexa Blair con una pistola, in seguito nega il tutto. Il riferimento al crimine dichiara quanto segue. È stata una forte risposta a certe persone che hanno bullizzato mia figlia. Hanno iniziato quando l'hanno tagliata fuori dalle High Steppers nel 2015. Le viene chiesto se il modo in cui si sente possa assomigliare a quello che ha provato Dana. A questa domanda risponde che la sofferenza della donna è simile a quella che Kylie, sua figlia, ha provato nel ritrovarsi esclusa dalla squadra. Di fatto Nancy paragona la paura di perdere una figlia vittima di un rapimento e di essere minacciata in casa propria tramite un'arma da fuoco alla delusione di non passare alle selezioni per entrare in un gruppo atletico. Non ha mai spiegato il movente reale alla base delle sue azioni, sebbene abbia sempre parlato di una grande empatia nei confronti della figlia. Sembrerebbe più adeguato definire l'ossessione, ma questa è solo una mia opinione. Detto questo, io ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere se conoscevate questo caso e che cosa ne pensate di questo caso. Io l'ho trovata assolutamente folle, assurdo, però effettivamente non entrando in contatto con quell'ambiente, quindi l'ambiente del cheerleading e tutte queste cose. Io non riesco tanto a immedesimarmi nelle azioni di questa donna o comunque nella delusione di sua figlia. Però trovo davvero sconcertante che qualcuno arrivi a rapire una ragazza semplicemente perché fa parte di un gruppo atletico. E non è che la presenza di quella ragazza abbia in qualche modo allontanato Kylie. No, cioè non c'entra assolutamente nulla, è assolutamente una cosa totalmente a caso ed è questa cosa che mi ha fatto particolarmente riflettere. Voi che cosa ne pensate? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Io ne frate un po' vi mando, un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non faccia nulla di criminale. Ciao a tutti. Basta che non faccia nulla di criminale.